Sì, questa mattina abbiamo presentato i nuovi corsi per l'anno 2024-2025 dell'Accademia dell'Annunziata. Sono ormai diversi anni che questa istituzione culturale opera nel nostro comune, offrendo corsi su tematiche le più varie, dall'economia alla psicologia all'ambiente, dedicata a tutto il pubblico, dai bambini ai ragazzi fino agli adulti. Si tratta di iniziative che partono nel mese di ottobre e finiranno nel prossimo mese di maggio dell'anno 2025. Ringrazio naturalmente l'Accademia dell'Annunziata, la sua presidente Paola Conti, Anna Tani e tutti i volontari che nel corso dell'anno riescono a mettere insieme queste lezioni che vanno ad arricchire ulteriormente la proposta formativa e culturale del nostro comune. Queste lezioni si svolgono ogni mercoledì presso le ali di San Giovanni Valdarno. Allora, potete vedere anche nel sito, nella pagina Facebook dell'Accademia dell'Annunziata, Accademia Annunziata, che sono riportate le indicazioni per l'iscrizione. Però così per tutti quanti, all'inizio ci sono quattro giorni durante l'anno per l'iscrizione ai corsi in termini più ufficiali per chi vuole effettivamente partecipare a tutti i corsi con una quota di iscrizione o l'iscrizione ai corsi più scontata. Però successivamente le persone possono assolutamente associarsi alla nostra associazione e partecipare anche a un singolo corso e lo possono fare venendo un po' prima delle 5, che è l'orario previsto per l'inizio dei singoli incontri che vengono fatti alla sede delle ACLI e quindi, ecco, con un po' di anticipo possono iscriversi e far parte della nostra associazione con tutto il calore della nostra accoglienza.